bella ragazzi allora recensione tonimo 87 l'ho fatto ieri per impressioni è un ottimo difensore centrale non sarà che ne so varan if però è un'ottima alternativa varan dovete aumentare un po la velocità scatola e l'accelerazione perché più mi passa un po lento però con un'ombra gliel'ho aumentata io ho messo ancora perché avevo fatto qua nel club e devo cambiare l'appunto perché non mi ci trovo agilità si sente l'agilità è un piccolo tronco ma finché giochi in difesa sti cazzi difesa top difesa veramente top anche il fisico il fisico sembra che sia un gracilino però di fisico è tanta tanta roba c'ha 4 sede skill è alto 1,90 e non mi ha preso mai una palla di testa anche se è alto 1,90 per dettagli io di testa quest'anno sono proprio negato abilità boss 4 skill allora io questo tonimo lo farei pure giocare centrocampista difensivo soltanto per ora che devi avere una difesa 5 io la difesa 5 non so mediamente come metterla perché a parte che mi fa schifo il mio come modulo anche perché poi cc chi metto cioè difensore centrale chi metto che si no qui lascio tonimo in difesa che fa il suo sporco lavoro un ottimo passaggio anche se è 76 però non è male non è non ha fatto male questo difensore io ve lo consiglio con obb ovvio se non avete varad perché se avete varad lasciate varad e siete a posto per tutto fifa visto che varad è in difesa più forte del gioco per dettaglio questa è la cosa che voglio farmi comunque io farmi questo con il tijons che mi mancano due sfine prenderò questo qua perché tanta roba l'ho visto in giro non è male volevo usare sto destra alla fine però c'è la legla è lentissimo l'ho usato è troppo lento quindi ho rimesso gioco best walker che mi sembra la difesa perfetta e ma ne all'importa ma di arpe che l'ho usato picca e mi è piaciuto sta tanto dirlo ma mi è piaciuto ma ma di arpe sui dettagli questa è quella che voglio farvi come vedete allora lo posso metterlo se non va a senato di bo e portieri francesi a riganne della riganne non c'è nessuno ci sarebbe sto navas ma giocherebbe a 7 navas sarebbe lopez ma idem giocherebbe a 7 cioè o se no potrei mettere questo mediter sapete che i portieri sono uguali nessuno è fuori nessuno è scarso ci metto ma anche mediter gioca 10 sicuramente metto maignan perchè mi piace di più mi piace di più ronaldo l'ho usato col finalizzatore sta segnando segna ovvio non è ripeto ronaldo che conosciamo però finchè si fa sentire in attacco buon per lui ronaldo è un animale ronaldo un animale 49 partite di cui 20 quittate quindi facciamo 30 partite 58 gol 21 ansi è un animale ronaldo è fortissimo ovvio nel mid con 5 skill ma pia tv che è molto forte adesso completerò questo linea anche se il 85 87 l'ho visto un tronco assurdo quindi lo butto dentro curti jones e ieri è uscito pure cucureglia che per il meme è però una carta devastante su cucureglia c'è perchè usano anche la difesa 5 terzo sinistro volendo se volete tanto fare i fenomeni devo segnare un quattro giocatori spagnoli non subire più gol tra vittorie differenti riuscire a assi con cucureglia riuscire a assi usando cucureglia a serie futura ok se ti ricorda fuori con cucureglia ma alla fine si fa il scombato su cucureglia qua magari una decina di giorni si può anche fare ovvio sono dei scombatos più pesanti da fare però è tutto scombato se benvenga benvenga tanto prima fare questi obiettivi qua perchè nel pass qua voglio prendermi subito questo un walldash knit che dalle stats mi sembra un ottimo super sub poi a livello 30 hanno messo questa carta hanno messo questa carta qua che mi sembra i sessioni che fa 18 quello pot per quindi da fare assolutamente molto forte stats interne da dio agita 93 versione 90 anche se però questo shanuzai mi ispira molto mi ispira molto e vedo a parte vedo se c'è io perchè non sono mai arrivato a livello 30 in tre stagioni quindi vedo bene vedo bene quindi che dì ragazzi mi saluto un appuntamento al prossimo video ton di bo alla fine promosso voto lo usate 5 partite diciamo perché qua sono acquistate quindi qua legge 9 e voto 7 meno voto 7 meno ci vediamo al prossimo video bella raga